Salve a tutti ragazzi e bentornati di Amix Show Show, siamo tornati con un video sul calcio Ma oggi ragazzi sono stato ispirato da una cosa che mi ha colpito Karius, il tristemente noto Karius, il portiere che possiamo dire ha fatto perdere la finale di Champions League a Liverpool contro Real Madrid Voi direte vabbè dopo quello ha smesso di giocare, no Voi direte vabbè ma dopo quello sarà un po' più attento, avrà smesso di fare papere No ragazzi, l'altro giorno in Europa League ha fatto questo, guardate Bratislava contro il Besiktas, lancio lungo del portiere, Karius è il giallo Dove stai andando Karius? Non aveva senso fare sta cosa ragazzi Il difensore ci sta, questa la prende il difensore, vabbè Lui esce e fa male al suo difensore, vabbè non c'era bisogno Ma guardate ragazzi la disperazione dei suoi amici difensori, guardate e dicono ma come cacchio è possibile Il Besiktas perderà questa partita 4 a 2 e guardate, guardate, non c'era nessun motivo Nessun motivo Guarda, guarda, non c'era nessun motivo di far questo, anche perché si aspettava un rimbalzo in più Stava dentro la porta Secondo me a questo qua gli si chiude la vena, non è possibile, guarda, guarda A me dispiace perché immaginate come si può essere sentito Sta persona durante la finale Quindi ragazzi avrete capito che oggi andremo a vedere gli errori, le papere più assurde e incredibili Dei portieri Un po' sono aggiornate e un po' sono storiche Offritemi un caffè, come sapete ogni mi piace è un caffè Che l'esperimento con video diversi o altri sport è andato bene Quindi fatemi sapere se vorreste anche altri sport Magari questo tipo di video con altri sport E se sì, che sport? Basket? Ah, e vi ricordo che ogni tanto mi trovate sull'altro sito Per giocare a FIFA, per stare un po' insieme Allora, non potevamo non iniziare giustamente con Karius Durante la finale di Champions League Questa ragazzi, secondo me questa è peggio Dell'altro errore Perché Benzema è entrato in modalità stealth e lui non l'ha visto Però è molto peggio, secondo me, di quell'altra Invece qua ragazzi siamo in un camp... Allora adesso ce l'andiamo a vedere Mi è finita in mente questa cosa Perché ve l'avevo promesso 40.000 mi piace e ci andiamo a vedere Tutti i video più marci, più... Mamma mia Dei dilettanti, della Sunday League La ragazzi fanno veramente il panico Si possono trovare perle di sto tipo Guardate qua Palla a campanile Il portiere... Cosa? Ma forse l'avevamo già visto Lo avevamo forse già visto quello lì Guarda quest'altro ragazzi Oh ma tutti contro Benzema ragazzi Benzema entra in modalità stealth secondo me Questa era contro il Bayern Monaco Qua invece torniamo in Italia Il buon consigli Che giustamente ci fa capire perché Ragazzi ha una valutazione 83 su FIFA Wup! Olè! Grande Poi dice vabbè 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 Ma com'è? Lì ragazzi la vergogna deve superare qualsiasi altro pensiero Qua invece siamo al teatro dei sogni Olè! Massimo Taibbi Ragazzi questo voi non ve lo ricorderete assolutamente Quel portiere che ha fatto questa papera clamorosa che fece imbestialire Sera Alex Ferguson E Massimo Taibbi Un portiere che tra l'altro segnò anche un gol mi ricordo Allora io me lo ricordo Molto bene alla regina Non era scarso secondo me E ebbe sta grande occasione al Manchester United Taibbi al Manchester United E invece sta cosa ragazzi è considerato uno dei portieri più scarsi dello United Della storia proprio Siamo in un campionato dove Ecco Va bene Portiere E' svenuto che è successo però Aurora Ha fatto un sinistro destro E poi ragazzi si è arreso Nooo dai l'aveva parata L'aveva parata e poi gli è rimasta sotto le gambe Non l'ha più vista Dove sta dove sta E se la butta dentro E che potevo fa Niente potevi pararla Usa le mani sei portiere Ma mai come lui Ecco Karius Questa ha fatto come Karius Oh portiere Oddio Ha cascato Piatelo piatelo E ha cascato di nuovo Queste cose mi perplimono ragazzi Tanto che ci faceva la Vabbè Io penso ragazzi che se io fossi di quella nazionalità E giocassi nel campionato loro Sarei tipo il Cristiano Ronaldo della Malesia Guarda guardalo Con che sicurezza poi Con che sicurezza poi la Ahahahah 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 Ragazzi mi avevo graffiato il terreno Guardalo No 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 Vieni qua vieni qua Ahahah Boom Una muccata Ma qua ragazzi Torniamo in campionati che contano Bene Benissimo Portiere L'errore che viene dopo è peggio del primo Guarda Porta vuota dai Ce la puoi fare Ce la puoi fare E invece no Vabbè però Gli ha rimbalzato davanti eh Piano piano Esce portiere Esce portiere Lasciala fuori E invece no E invece no Andava fuori piano 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 E invece Qua mi aspetto emozioni eh No Comunque io penso che certe cose Noi non le conosciamo Ma per me sono truccate Dai Ma questo è scherzo Forse l'avevamo già vista Non me lo ricordo C'hai le mani Sei il portiere Però ragazzi C'ho una domanda Per voi Ma voi Esultereste Con un gol Con una papera Cioè nel senso Voi tirate Il portiere spapera E fate gol Esultate o no Io esulterei proprio Così proprio A farlo sentire ancora più in colpa Ma vabbè non lo so Forse no Guarda questo Guarda questo Madre Madonna Mi ricordo Carrizzo alla Lazio Lascia o perde No 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 Ma qua Qua si è disorientato C'ha la labirintite Ma come Penso in questi campionati Il più scarso va in porta Avete capito perché Lui giocava in porta Qua questo tira da casa sua E fa gol A parte mi ricordo Anche in premier Uno fece No dai portiero Fece un gol Da rinvio E mi pare che Ederson Il portiere del Manchester City Abbia il Guinness World Record Del rinvio più lungo Mi pare Comunque c'ha un record Ecco il portiere No dai Vabbè 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 Una squadra De scandali C'erano il momentum Contro Guarda Vediamo un po' Lescia tu No no aspetta aspetta Lescio io No aspetta La prendo io Ma Ma usa le mani Guarda non le usa No Porti No dai E' scivolato Ma c'hai Le saponette al posto delle mani No questo è bruttissimo Ragazzi Poi sta pure in un campionato Dove probabilmente Ti fanno fuori Stai in Messico Ragazzi però io mi ricordo Il mitico Goicocea Portiere della Roma Comunque la Roma Ha sempre alternato Portieri buoni E portieri Schiappe Clamorose Quell'anno c'era Zeman Che era fomentato Non so come Goicocea Le qualità ce l'ha vista Solo lui Calcio e punizione Che andreva da casa sua Goicocea Una sicurezza Che poi che ci mise Il pugno Che fece Si il pugno E' un po' la Karius In finale Bello Grande Grazie Goicocea Grazie mille Però ragazzi In quella partita Successe anche questo Giustamente Guardate che gol Che prese Marchetti Da casa sua Secondo me non ha mai tirato Questo qua Però Se non ve lo ricordate Successe questo Io Io qua ero estrefato Ero veramente Sbigottito Andiamoci a vedere Però dei gol Un po' più recenti Ragazzi E qua siamo In Liga Spagnola Guardate Ter Stegen Il portiere più forte Di FIFA 20 E vabbè Non for di niente ragazzi Una papera può succedere Solo che Ter Stegen E' un po' Fio de puttana Da quello che ho saputo Dichiarazioni Che ha fatto In nazionale Che vuole giocare De Gea Invece ragazzi Ce l'ha i momenti suoi E infatti ragazzi Guardate qua Che fa De Gea Wuppa Undo stress Vabbè Quel Barcellona Era troppo superiore Al Manchester United Ragazzi E poi lo United Aveva già fatto Diciamo Il suo col Paris Saint Germain Vabbè Ma questo non è Un grosso errore Cioè Gigio Donnarumma Grande Gigio Però pure ragazzi Pure Allison La sua minchiata L'ha fatta Appena arrivata a Liverpool Però oggi E' il portiere Più forte del mondo Possiamo dire Sì Siamo sicuri No Un po' Di cincischio Però mi ricordo Sempre Carrizzo Ragazzi Il peggio era Carrizzo La gambeta Qua siamo a Palermo Oddio Noo Ah si L'avevamo visto Questo ragazzi L'avevamo visto In serie B E questo è il signor Loric Arius Ragazzi Se ce l'ha fatta lui Con questi errori Ce la potete fare Sicuramente Anche voi Su Youtube Trovi peggio video Tutte le compilation Dei migliori salvataggi E poi trovi Le compilation Degli errori di Carrius Come si è finito A giocare per il Liverpool Mi sa giocare con il Colonia Ma comunque Il Besiktas Ragazzi E' una delle squadre Più importanti In Turchia Quindi c'è Lui Il posto ce l'ha Guardate qua Con il Manchester City Vabbè Magari Tra tutte Questa E' il più banale Perché ha preso col Sul suo palo Certo C'era tanto così Di spazio Ce l'ha preso Però non è una È un errore Ma non è una papera Però le papere Ragazzi Arriveranno Arriveranno Guardate qua C'è uno che non te Non te dà sicurezza E infatti Klopp Ha cacciato Non mi ricordo Vanti milioni Questa 80 Per Allison Guardate qua Guardate questa Guardate questa Ragazzi Cioè Ma che piedi Storti c'hai Che volevi fare A chi la dovevi passata Tra l'altro Che non c'era nessuno Lì Vedete Non c'era nessuno A chi la voleva passata No Secondo me ragazzi Questo se la dentizza C'ha qualche problema Ma non è finita Eh Uh Ah Qua si è salvato E qua ragazzi Seconda papera Però come vi ho già detto Questa È Meno Secondo me Meno grave Dell'altra L'altra è proprio Troppo stupida Qua Vabbè Tra l'altro In tanti C'hanno Quelli Amanti delle teorie Del complotto Raccontano di un cario Scolpito Guardate questa Che gli passa sotto le gambe Che raccontano Che è stata colpa Sergio Ramos Che l'ha colpito in testa Quindi C'ha una commozione Celebrale In corso Io penso Che sia solamente Tanto scarso Ragazzi Perché in quella partita Ok E in queste C'è C'ha le saponette Se pensate Se pensate Che non ce la farete mai Pensate Che c'è stato Carius C'è anche uno Dei più forti Di tutti i tempi Ha spaverato Però mi ricordo Che con l'Atalanta E mi ricordo Pure una con Il Lecce Di Buffon Guardate qui Buffon Che va con il piede E no E no Questo era ancora Buffon Quando si metteva i pantaloni lunghi Che aspetta Il calcio D'altri tempi Ragazzi Calcio D'altri tempi Consoliamo Carius Pensando che Lui l'ha fatto In finale Champions League Ma c'è stato anche Chi l'ha fatto In finale coppa del mondo E' vero che stavano Sul 4 a 1 Ma questo è Ugo Ioris Vole Vabbè 4 a 2 Ragazzi Peccato che quella Croazia Ci ha fatto sognare Un po' a tutti Chi è secondo voi Il portiere più forte Del mondo 40 mili piace Andiamo a vedere I video sulla Sunday League Un saluto a tutti Da Mike Sosha Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Mike Sosha Mike Sosha